Anticipazione una vita Anticipazione una vita, Pablo condannato, scappa da Cacias 38 Anticipazione una vita, Pablo viene accusato della morte di Guadalupe e Mauro lo aiuta a fuggire. Le anticipazioni di una vita rivelano che, nelle prossime puntate, Pablo decide di fuggire da Cacias 38. Il Fantino viene accusato della morte di Guadalupe. A rendere questo possibile la stessa Ursula, l'artefice del decesso della povera Fioraia. La dicenta fa in modo, con la collaborazione di Susana, di far passare Pablo come il colpevole dell'omicidio. Il piano della vecchia governante riesce e il Fantino viene arrestato. Mauro e Felipe sono convinti che il giovane sia innocente ed estraneo a questa vicenda. I due comprendono, allo stesso tempo, che il loro amico potrebbe essere presto condannato a morte. L'ispettore di Cacias non può permettere di far ricadere una simile accusa su un innocente. Ad aiutare Pablo a fuggire è proprio Mauro. Quest'ultimo gli propone un piano che gli dà l'opportunità di allontanarsi dal piccolo quartiere spagnolo insieme alla moglie Leonor. . Pablo e Mauro simulano un'aggressione. . Sebbene sia titubante, il Fantino colpisce sulla testa l'ispettore, che cade a terra privo di sensi. . . Anticipazione Una vita, Pablo fugge insieme a Leonor e insieme diventano due ricercati. Dopo aver colpito Mauro, Pablo raggiunge Leonor e insieme si preparano a fuggire dal piccolo quartiere. I due coniugi hanno intenzione di lasciare il paese e di raggiungere il Marocco. . Ma Del Valle nota subito l'assenza di Pablo e, quando viene a sapere anche della scomparsa della Hidalgo, ordina a tutte le forze dell'ordine di mettersi sulle loro tracce. . Pablo e Leonor diventano due ricercati. . Allontanandosi dal quartiere, la coppia di coniugi percepisce di avere le forze dell'ordine troppo vicine. . Così, la Hidalgo pensa ad un altro piano. . Per Leonor la mossa giusta è quella di separarsi ed incontrarsi direttamente al porto di Malaga per raggiungere il Marocco. . Una vita anticipazioni, Pablo e Leonor si separano. . Pablo e Leonor si dividono, prendendo strade diverse per non dare troppo nell'occhio. . . Ma dalle anticipazioni sappiamo che non tutto va come la coppia aveva pensato. . I colpi di scena, infatti, non finiscono qui. .